Con la Padova Innovation Week abbiamo pensato di organizzare un convegno, dibattito, chiacchierata sul futuro del lavoro e il lavoro del futuro e come si può rinnovare l'intermediazione del lavoro, quindi cercare modi alternativi al classico CV e curriculum, curriculum e annunci che sembrano non funzionare così tanto al giorno d'oggi. È un'occasione di fare dibattito e soprattutto cultura, che è la cosa più importante per me. È un'opportunità di parlare di un tema molto delicato come quello dell'occupazione e del lavoro anche in maniera diversa e speriamo anche di far capire alle persone che c'è un'alternativa che non deve essere l'unica, che però si può cercare in maniera diversa il lavoro e quindi si spera tra l'altro anche di attirare un po' di attenzione delle istituzioni, partner, come per esempio la Fondazione Cari Verona che già ci sostiene per poter diffondere questo metodo. Noi ci rivolgiamo a disoccupati, nel senso di persone che cercano lavoro e non lo trovano. C'è tanto da innovare su questo tema, si tende a concentrarsi molto sul lavoro, sempre sulle stesse tematiche. La nostra scommessa è che si può invertire il flusso del mercato del lavoro invece che aspettare che le aziende mettano le loro esigenze sul mercato e scatenare una gara a chi arriva per primo o a chi è il più bravo a seconda dei punti di vista, ma si può provare a fare in modo che siano le persone agendo insieme a stimolare il mercato del lavoro e quindi tramite la proposizione di progetti farsi assumere da aziende che magari non avevano mai pensato di assumere quel tipo di persone lì, però può succedere.